Sappiamo che il nucleare è stato introdotto nel Green Deal, è stato accettato come forma di energia alternativa green e mi fa piacere anche in questo caso che Fontobel ha messo a disposizione due prodotti per il lungo termine perché ricordiamolo stiamo parlando di prodotti strategic certificate quindi della famiglia benchmark open end senza scadenza quindi è chiaro che l'investitore più scettico rispetto a quello che è lo scenario energetico di questo momento potrebbe decidere di stare alla larga da prodotti più di nicchia come questi ma che di sicuro avranno degli sviluppi interessanti in futuro ed è per questo che siamo andati a declinarli nella tipologia open end quindi senza scadenza. Le tematiche sono quelle che hai citato tu Riccardo, il nucleare e le energie rinnovate. Lo stiamo proprio vedendo in onda Jacopo un certificato sul nucleare che ha pochi mesi di vita questo strumento se non erro eppure è messo a 100 in un anno che di sicuro non è stato positivo per il mondo azionario in questo momento. Chi lo volesse chi lo volesse chiudere come investimento si porterebbe a casa un 24.25% a rotondo in dieci mesi. Assolutamente è una, lo abbiamo detto settimana scorsa con Pietro, tutta la nostra gamma tracker e strategic nasce per dare all'investitore la possibilità di diversificare con tematiche di interesse e di prospettiva. Abbiamo parlato settimana scorsa invece della questione specifica e particolare del nostro inflation influenced che è più divisione core quindi un investimento più, mettiamolo così nel pratico, anche più pesante da portafoglio proprio perché non va a toccare tematiche specifiche quindi anche caratterizzato da minore volatilità. Ecco questi prodotti di cui stiamo parlando oggi vanno ad arricchire diversificando e riducendo la volatilità complessiva perché lo dicevi giustamente tutta l'equity scende in questo caso stiamo vedendo un prodotto che in pochi mesi di vita ha messo a segno un più oltre un più 20% e discorso analogo può essere fatto per il nostro strategic certificate sulle energie rinnovabili che è il green energy strategic certificate. Grazie a tutti!